Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News This episode is brought to you by Polestar. The era of automotive advances with the all-electric Polestar 2. Now with faster charging, improved EPA-estimated range of up to 320 miles, and advanced safety technology. Experience awe-inspiring performance combined with luxury design as standard. The time is now. The all-electric Polestar 2. Book a test drive and order today at Polestar.com. Sicuramente l'inedito più adatto alle radio lo ha fatto Mara Sattei, che è stata partecipe di un percorso a Sanremo molto dignitoso, devo dire. Ha portato delle ottime performance, un brano con grandi potenzialità commerciali, ma adatto a quel contesto, un brano sanremese alla nuova maniera. Comunque se appunto c'è un'assenza di brani, c'è stata un'assenza di brani di questo stile a Sanremo, non perché non ci fossero, ma perché li hanno fatti male. E a lei bisogna dare il merito di averlo fatto molto molto bene. A me la canzone è piaciuta, anche come hanno giocato alla regia, con le immagini, è arrivata, ha avuto la personalità. Devo dire che è forte, è una ragazza che c'ha i coglioni, lo ammetto. Poi ho avuto una bellissima idea nel chiamare Noemi, non tanto per la voce e tutto, ma perché sembravano proprio due generazioni tanto differenti, ma tanto simili, ed è stata una bella sinergia la loro, che sembrava di rivedere magari l'entusiasmo di Noemi agli inizi, e quindi avevamo come un prima e dopo, come quando c'è De Niro, c'era una volta in America che fa la dissolvenza con Yes Erdain sottofondo e appare 30 anni dopo. Non era un discorso di età, non è che Noemi sembra che c'ha 60 anni, però è un discorso proprio di impatto, ho avuto questa impressione. Quindi mi è piaciuto anche come scelta. E' un brano comunque di Gigi D'Agostino che ha toccato una generazione intera. Era il brano sottofondo delle clip che magari passavano in televisione nei momenti drammatici. Mi ricordo fu usata questa canzone in una clip su Fabrizio Corona al Il Bivio di Enrico Ruggeri, un vecchio programma che ci teneva incollati. Riportare questa canzone così, poi cantata da due donne, in questo modo è una cosa senza dubbio apprezzabile. E poi è stata fatta bene. A me onestamente Mara Sattei, mi piacevano alcune sue uscite, però non è che la seguissi o la rispettassi troppo. So Sanremo mi è piaciuta, mi è piaciuta un sacco. E' arrivata la nuova Opel Corsa! E' davvero divertente da guidare e ricca di tecnologia! E posso avere la benzina o elettrica da 149 euro al mese? Nuova Corsa con Incentivi Opel, tua, da 149 euro al mese! Anticipo 2.284 euro, Tannotte 99, Taeg 11 e 3. 35 rate mensili, 15.000 km, rata finale 10.857 euro. Con scelta Opel fino al 31 dicembre, salvo approvazione di Stellantis Financial Services Italia. Info su Opel.it